sequenza mnemonica archiviata ricalibratura dei parametri di stasi dell'animus ok buongiorno ragazzi ben ritornati su Assassin's Creed Revelation terzo viaggio fuga forse spiegherà il momento dove Desmond fugge volevo una vita mia, vivere a modo mio ok aspetta ecco è quello? aspetta cos'è? ah ma un prima multigiocatore va bene ok forse bisogna andare giù, vediamo però lì se muore, aspetta ah però circonda tutto vabbè aspetta possiamo provare a far così, aspetta sulla ok poi da qua andiamo qua ok da qua saltiamo qua e voilà ok abbiamo aperto la porta bene sedici anni e dove stavo andando? chissà mi bastava andarmene quello era il piano non un granché lo ammetto in effetti così a caso andiamo di là insomma e però posso anche capirlo cioè oh madonna ho sbagliato non l'ha mai detto niente ehm fai l'addestramento così eh scusa uno un minimo di risposte le vuole eh però adesso il raggiungere lì sarà un po' problematico ok ok qua ok qua non si forma niente se salto non serve a niente mi sa proviamo e infatti non ce la faccio aspetta aspetta è qua in alto adesso che ci penso c'è qua ecco ecco magari ok non potevano immaginare che intenzioni avessi perché non lo sapevo nemmeno io mi allontanai e basta qualcuno capì che me ne ero andato gridarono gridarono io cominciai a correre Desmond Desmond esco così se ne andò correvo e correvo e correvo tutto quell'addestramento finalmente serviva a qualcosa orca aspetta via via correre correre di qua di qua di qua era così buio quando partii e la foresta infinita non osavo avventurarmi per le strade Desmond dove sei? mia madre che mi chiamava mi implorava di restare ma io non volevo scesi dalle colline giù finché non incontrai un ruscello lo seguii fino a un fiume e dal fiume a una vecchia strada madonna madonna andiamo un po' più su simula il fiume sta cosa aspetta ok andiamo giù ok ok vai andiamo qua un attimo oppla ok camminai per ore quel giorno il sole estivo mi tenne caldo fino a tarda sera purca qua si va giù tipo cascata effetto cascata ok quando fece buio trovai una radura mi addormentai sotto le stelle mai passato una notte più tranquilla né prima né dopo sempre a piedi troppa paura per fare l'autostop che stavo facendo perso nelle bedlands per un giorno sembra una settimana un oceano infinito di terra e rosa non potevo credere che un posto potesse essere così morto morirò vero morirò qui alla fine alla fine incontrai delle ragazze dell'illinois così vivaci gentili un giorno di macchina per Roma un altro per Chicago però è andata bene urca no urca aspetta facciamo così così esatto di qua ah sì come prima poi in qualche posto qualcuno mi disse se non hai niente va a New York così se te ne vai a mani vuote nessuno ti chiede perché e se te ne vai con qualcosa sei un fortunato figlio di puttana ah infatti lui faceva il barman a New York mi pare aspetta vai no ce l'avevo fatta merdaccia devo salire oh cos'è così è lì che andai New York City in mezzo a grattacieli e metropolitane fra la sporcizia e la foglia fra la pazza folla ah ok è finito così ok ok eccoci qua sull'isola dell'animus abbiamo fatto il terzo viaggio ora vi saluto e ci rivediamo al prossimo video con il quarto viaggio di Desmond dove ah 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 are oh ah 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 Grazie a tutti.